Oh mio Dio! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Oh mio Dio! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Non vuoi lo zampaione? Stanno arrivando! Sono da qui! Sono già qui! Ma vuoi lo zampaione? Ma non vedi che sono qui? Che buono! Vuoi lo zampaione? Ti hanno già preso! Ti hanno già preso! Zampaione! Ma l'ho capito! L'ho capito! Voglio i nostri piedi! Voglio! Voglio i nostri piedi! Non gli daremo mai! Non gli possiamo dare! Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Oh! Baccelli! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sì Sì Comunque siamo a tipo 4-5-30 Tipo arrivano a 2 minuti È perfetto per un prego Poi ci sono 3 immagini Sì sì è vero Poi pure un po' di titoli capito Le cose varie arrivano a 3 minuti È perfetto Dai allora Tu devi fare più buona scena in cui tu arrivi da là Sì così Le fai No fai No le prego È là tipo nero Continua Aspettate No perché sto ancora riprendendo Ad agosto Dal tuorto frutta Dal tuorto l'anno di fiducia Guarda ti sento la voce Ci dobbiamo C'è quello che fa la voce meccanizzata Sì sì Cioè c'è un programma che Già ce l'ho Però fa un po' fattare Grazie a tutti